Toleranza zero nei confronti delle discariche abusive, questo sembra essere di nuovo l'atteggiamento dell'amministrazione nei confronti degli sforcaccioni, via le telecamere? Sì assolutamente, come promesso inizieremo con l'installazione di sei telecamere a cui ne eseguiranno molte altre, abbiamo già individuato, nelle telecamere già installato alcuni soggetti che verranno ovviamente multati e contattati, quindi chiaramente non diremo i luoghi in cui le telecamere saranno installate in modo tale da andare a colpire con grande soddisfazione gli incivili, come li chiamo io, i nemici della nostra città. Si tratta di postazioni fisse o mobili? Sono delle postazioni fisse ma non definitive, possiamo pensare di spostarle laddove i problemi saranno risolti, ma intendiamo fare una dura lotta contro le discariche abusive perché davvero non se ne può più. Quali saranno i quartieri in cui ci saranno maggiori presenze di telecamere? I quartieri in cui c'è una maggiore presenza di scariche, non desidero dire i luoghi in cui verranno installate proprio perché mi piace giocare sull'effetto sorpresa e mi piace che a qualcuno comincino a tremare un po' le gambe, le ginocchia.